buongiorno e bentornati sul canale oggi nuovo blog della corea non abbiamo programmi quindi oggi gireremo qui e là in base a quello che più ci fa perché abbiamo visto penso tutto quello che volevamo vedere o tutto quanto quello che era già nel nostro programma però ne voglio approfittare per vedere magari dei quartieri un pochino meglio provare altro cibo buono soprattutto in questi giorni mi ha provato un sacco di cose buone infatti sono super entusiasta per l'outfit del giorno oggi molto semplice ma in realtà durante tutto il viaggio è stato sempre semplice perché non mi piace indossare capi scomodi quando sono in viaggio quindi non fare outfit chissà quanto complicati e come vedete ho le solite collane in argento ho rimesso gli orecchini questi qui di bbn e anche oggi niente lenti perché voglio cercare di tenere un pochino gli occhi a riposo e ho questo cardigan di sheen che vi avevo già fatto vedere i pantaloni cargo e metterò le converse più una nuova borsa che però stavolta non vi faccio vedere perché altrimenti se vi spoilerò tutto chi lo vede il video però vi dico solo che ieri cioè o meglio ieri stavo pensando quanto sono stata brava a non prendere troppe borse perché ne avevo comprata soltanto una che appunto quella che vi ho fatto vedere in uno dei precedenti video e poi ieri il patatrack mi è arrivato un messaggio cioè o meglio una notifica su instagram di un account che seguo che praticamente ieri avevano un pop up store con sconti fino al 40% sulle borse quindi potete capire che sono tornate con me due nuove borse quindi niente sta andando male sotto quel punto di vista cioè lo shopping perché ci stavo riuscendo a essere brava ma poi in realtà ho fallito miseramente e niente vediamo oggi se faccio altro shopping trovo qualcosa di carino ho preso anche un sacco di regalini per la famiglia e gli amici quindi almeno per quello sono soddisfatta e noi ci vediamo fuori per le altre clip oh 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 abbiamo appena pranzato e siamo vicino alla nok village la stessa zona di ieri e volevamo esplorarla meglio perché ieri ero troppo stanca e quindi abbiamo visto soltanto le cose più turistiche ma volevamo fare un giro anche qui nelle viette perché ci sono un sacco di bancarelle negozietti e cosine molto carine non so se magari si percepisce dal rumore ma ci sono veramente tante persone qui nella via ci sono ovviamente e anche lavori in corso però è un po difficile vloggare in giro per la corea questo perché appunto ci sono veramente tante persone in giro e tanti rumori a volte anche musica e c'è 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo scoperto che è pieno di bei negozi, è proprio una bella zona, quindi vi porterò a farvi vedere un pochino di vintage shops qui in giro e vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare di interessante. Sono finalmente tornata in albergo. Abbiamo cenato in un centro commerciale qui vicino e adesso però purtroppo, anche se è un po' tardi, mi tocca preparare la valigia perché domani ci spostiamo in un altro albergo sperando che sia carino come questo qui perché mi sono trovata veramente bene, qui è tutto molto comodo, pulito, veramente un'ottima esperienza qui al travel loge di Myeongdong. ve lo consiglio se volete venire a Seoul, inoltre la zona è proprio collegata benissimo, la metro è letteralmente appena usciti dall'albergo, quindi veramente top la posizione. ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!